Un sito archeologico nel cuore del tessuto urbano, raggiungibile senza difficoltà in pochi minuti. Un tuffo nell'alba dell'era nuragica con un esempio di villaggio dell'età del bronzo risalente al periodo che va da 1700 a 1400 a.C. Un unicum che non è uguale al momento in Sardegna e che mostra come Nacque iniziò a svilupparsi la civiltà nuragica. È il sito archeologico di Tancamanna a Nuoro che il comune, attraverso l'assessorato all'ambiente e in collaborazione con la sovrintendenza di Nuoro e Sassari, l'Università di Bologna e Sassari sta riportando alla luce, proseguendo il lavoro iniziato negli scavi del 1963 e del 2005. Un villaggio che si sviluppa attorno all'uraghe. Gli scavi sono stati preceduti da una mappatura in 3D dell'area che ha consentito di scoprire alcune particolarità del sito e di pianificare le campagne di scavi. La prima è iniziata il 20 agosto e terminerà il 13 ottobre. Sono state pianificate altre due campagne di scavi, dopodiché il sito sarà messo in sicurezza e aperto alle visite guidate. I lavori sono diretti dal professor Maurizio Cattaneo dell'Università di Bologna che si avvale dalla collaborazione degli archeologi Florenzia De Bandi e Demis Murgia. Alle attività di scavano ha preso parte, divisi in tre turni, 40 studenti dei corsi di archeologia di varie università italiane. Stamattina gli archeologi Murgia De Bandi insieme al sovrintendente Antonio Sancho e all'assessore all'ambiente local a Pia hanno illustrato la stampa allo stato dei lavori che procedono secondo i piani stabiliti, ma anche le particolarità del sito di Tancamanna che ne fanno uno dei più interessanti relativamente all'età anuragica. Parallelamente alla campagna di scavi che ha consentito di trovare diversi utensili come vase lame, piastre per la cottura, fusaiole per filare, verrà affiancata una serie di studi paralleli sulle coltivazioni e sul tipo di allevamento effettuato che potranno fornire notizie utili su questi nuoresi di quasi 4.000 anni fa. Il Comune di Nuora, sottolineato all'assessore alla Pia, crede pienamente nel progetto di valorizzazione del sito di Tancamanna e sta dando tutto l'appoggio possibile per completare i lavori, anche se serve un ulteriore sforzo, magari con l'intervento della Regione. L'assessore alla Pia ha anche ricordato che il Comune ha lanciato il concorso di idee denominato Bisu per dare una strutturazione futura a tutta l'area di Tancamanna.